Veniteli 2019, Azzanobile, su invito del commerce a Vino 75, è venuto a visitare Bottega. Cosa ci presenta oggi? Qui allo stand oggi abbiamo innanzitutto, vedete, uno stand bello dorato, quindi il tema principale è il Gold, il nostro Prosecco Gold, è il nostro Prosecco conosciuto in tutto il mondo, internazionale, un Prosecco che nasce nelle colline di Conegliano e Valdobiadene, che produciamo con un metodo particolare, infatti viene ottenuto dalla fermentazione delle nostre uve glera, ma non è una rifermentazione ma una fermentazione da mosso direttamente. Ho tenuto conto che le nostre uve sono poi coltivate con il metodo biologico e che la raccolta viene sempre manualmente, abbiamo ottenuto un prodotto di grandissima qualità, tant'è vero che riteniamo sia superiore agli champagne francesi. Poi, oltre al vino, voi siete famosi anche per un altro prodotto. Il nostro primo amore è la grappa, il nostro prodotto di punta è la grappa riserva privata, una grappa di amarone ottenuta dalle vinacce delle nostre vignette, delle cantine di Marano di Valgatara, è una grappa che fa dieci anni di barrique, in legni di Rovere di Slavonia, Quercia Americana, Livusin francese, di varie tostature e quindi ha una complessità molto importante, si abbina egregiamente con il cioccolato. Per chi vuole assaggiare questi prodotti lo trovano su vinos95.com